Musica Dagli studi di Expo Milano 2015 eccoci all'Expo Show con Arabella Arancia e il suo talento unico a ferrare bouquet nuziali Senti che botta, ma quello non era un bouquet era un cactus mancato per un pelo come l'ho detto? vabbè dai non è successo nulla vediamoci il suo filmato non ci prenda sulle spine vai sulle spine del cactus Arabella Arancia era così brava nel fare l'invitata professionista ai matrimoni da essere richiesta anche a quelli più illustri ma l'incidente sul campo la convinse che era ora di prendersi una vacanza al mare scorciatoia in cielo nessuna fuga mai più felice di quella era il posto più bello che avesse mai visto il più appetitoso che avesse mai visto o il più avvitante che avesse mai visto la dolcezza delle notti cumulate dal canto delle nuve la luce delle stelle nel cielo limpido e il tepore del servista le piacerebbe desiderare che la vacanza non finisse mai ma tutte le cose, anche le più piacevoli, hanno una fine e così torna da un'isola meravigliosa me l'ha portato un regalino? no, 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 lo squalo dell'acquario ce l'ho già, grazie come se avesse accettato, davvero perché invece non andiamo a Expo Milano 2015 che è il luogo ideale per ritrovare i suoni e i profumi tipici dei paesaggi delle isole e del Mediterraneo magari ci sono anche i surfisti ecco quel che si dice faccia l'Expo Expo Milano 2015 dal 1 maggio al 31 ottobre acquista il tuo biglietto su expo2015.org